e adesso vi parliamo di sabrina ferilli e di un pio di sano buon gossip infatti alcune fans di amici di maria de filippi hanno notato l'assenza della popolare attrice romana nella trasmissione ricordiamo che sabrina ferilli è ormai ospite fissa da alcuni anni e invece questo anno per la primissima del serale di amici di maria de filippi sabrina ferilli non ci sarà al suo posto si parla di ambra angiglioni alcune settimane fa alcuni giornalisti avevano inoltre parlato di una sabrina ferilli incinta ricordiamo che l'attrice da anni è sposata con flavio cattaneo matrimonio oltretutto che va avanti da sei anni ma a quanto pare la verità deve essere un'altra infatti arriva alberto dandolo che si occupa di gossip ma soprattutto che conosce benissimo l'attrice romana che nella rivista oggi dichiara sabrina ferilli sabrina ferilli non parteciperà al serale di amici molti hanno attribuito la scelta al fatto che l'attrice fosse in attesa del suo primo figlio smentiamo con certezza l'indiscrezione la ferilli non è incinta la sua rinuncia è legata a ragioni professionali